Vittoria credo che valga doppio perché campo ostico, squadra ostica con la quale devi stare sempre attento, che va presa con le pinze, soprattutto nel primo tempo ce l'hanno dimostrato, i ragazzi sono stati bravi a mantenere sempre la spina inserita, sono stati attenti nei particolari, sono stati attenti nel processo della partita, per tutto quello che serviva per portarla a casa, c'è stata una fase centrale nel primo tempo nella quale abbiamo anche sofferto, poi siamo tornati a prendere le misure, il gol dell'1-0 ha fatto un po' da spartiacque, loro non hanno reagito più, noi abbiamo cominciato ad entrare veramente in partita anche perché gli spazi erano maggiori, anche perché comunque loro si sono aperti di più e penso che il risultato sia stato meritato, ovviamente meritato per tanti aspetti, l'abbiamo anche chiusa, che ogni tanto non guasta, quindi abbiamo avuto la capacità per una volta di affondare più colpi, questo ci ha permesso di fare esordire anche i due ragazzi del 2006 e di dare spazio anche a qualcuno che magari è stato in ritardo di condizioni nelle ultime settimane come a i dei che è potuto entrare in un momento della partita più tranquillamente libero, la squadra è piaciuta e ha convinto per le solite cose ma bisogna aggiungere anche la mentalità perché ha saputo colpire nei momenti giusti e non ha rinunciato mai a giocare nonostante il campo non fosse in condizioni eccellenti ma comunque era un campo abbiamente praticabile, la palla magari non rimbalzava benissimo ma era un campo dove si poteva giocare a calcio, in alcune occasioni siamo andati in difficoltà per il cattivo rimbalzo della palla ma abbiamo continuato sempre a giocare, non abbiamo cambiato lo stile di gioco e questo è stato un altro aspetto molto molto positivo